Per più di un secolo ho vissuto nel segreto, nascosto nell'ombra, solo al mondo. Fino ad ora, sono un vampiro e questa è la mia storia. Un'ora di strada per ascoltare quella schifezza. Non era neanche una band, solo uno con la chitarra. Due ore per andare e tornare. Non era così male. Sembrava James Blunt. E che c'è di male? Esiste già un James Blunt, basta e avanza. Allora perché sei venuto? Perché ti amo. Bella risposta. Da dove viene tutta questa nebbia? Si diraderà presto. Attento! Tutto bene? Abbiamo investito qualcuno, mio Dio. Chiamo aiuto. Andiamo, andiamo. Speriamo che sia vivo. Oh mio Dio. Non c'è campo! Darrell! Darrell! Non sarei dovuto tornare a casa. So i rischi che corro. Ma non ho scelta. La devo conoscere. Caro diario. Oggi sarà diverso. Deve essere diverso. Sorriderò. E sarò credibile. Il mio sorriso dirà Sto bene. Grazie. Sì. Mi sento molto meglio. Non sarò più la ragazza triste che ha perso i genitori. Ricomincerò da zero. Sarò una persona nuova. È l'unico modo per superare tutto. Dei toast. Posso preparare dei toast? L'importante è il caffè, tia Jen. C'ha del caffè? È il vostro primo giorno di scuola e sono del tutto impreparata. Soldi per il prezzo? Io ce li ho. Nient'altro? Una matita HB? Che sto dimenticando? Non hai una grossa presentazione oggi? Ho appuntamento con il mio consulente per la tesi alle... Adesso! Cavolo! Allora vai, ce la faremo. Tutto bene? Non cominciare. Allora, mia nonna dice che sono una veggente. I nostri antenati erano di Salem, streghe e cose simili. Lo so, è follia, ma lei insiste e io mi dico, chiudetela in una casa di riposo. Poi però ci ho pensato. Ho predetto l'elezione di Obama, ho predetto Hitler e credo ancora che la Florida si staccherà e diventerà un'isoletta turistica. Elena! Torna in macchina! L'ho rifatto. Vero... Mi dispiace, Bonnie. Mi stavi dicendo che... Che ora sono una veggente? Giusto. Certo, allora prevedi qualcosa su di me. Io vedo... Che cosa è stato? Oh mio Dio. Elena, come stai? Sto bene, sto bene. Era un uccello, è sbucato dal nulla. Non posso essere spaventato dalle auto per il resto della mia vita. Prevedo che quest'anno sarà fantastico e prevedo che i tempi tristi e cupi sono finiti e che tu sarai molto felice. Fiore di movimenti Gallagher proteins hacking vicino puedan игрare Fo Grazie a tutti.